Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui per un nuovo video, oggi siamo qui con MyClub Pest 2021 Andiamo a fare subito una partita ragazzi Ecco qui la nostra formazione che andremo ad usare, vedete Ho allenato qualche giocatorino nel frattempo, vediamo un po' se riescono a reagire bene Ed eccoci ragazzi, abbiamo beccato l'avversario, vedete, Boca Juniors Andiamo a vedere un po' che c'ha Del Piero ragazzi questo I giocatori sono abbastanza in forma tutti quanti, quindi direi che possiamo subito andare a calcio d'inizio ragazzi Siamo subito a partita Ed eccoci qui ragazzi Eccoci, siamo alla Bobo Nera Bobo Nera Vediamo un po' ragazzi, vediamo che facciamo una bella partita Subito concentriamoci, attenzione Annaccia, misera tecnica dei bambinoni Mandate la, mannaccia Questo io devo fare meno 5, questo è solo per questa tecnica causata Proprio un bambino ragazzi Sta gente è da punire È da punire sta gente perché non può essere una cosa del genere Non si può fare, è fa allaccio sul Beckham pure Che c'è da punire C'era Puyol Se non, non lo so eh Non lo so se Se c'era forse Van Vick riusci a prenderla ragazzi La palla viene rigiocata verso la terra Subito, subito così Abbiamo subito un altro gol Porto schifo Questo Ronaldo si ferma Ma cos'è? Ma svegliati Ti faccio espellere Ronaldo E vai, rimpalli qua, rimpalli là Ma che schifo è sto Pest ragazzi Quest'anno Con questi rimpalli eh Alla faccia che non cambiavano niente Non cambiamo niente E sta lo stesso gameplay Invece alla fine Attroppo è un gioco nuovo Ci siamo ritrovati con un gioco nuovo in mano Forse il gameplay è addirittura peggio Di quello dell'anno scorso Visto i gol stupidi che si riescono a prendere Non è stato risolto il bug Nemmeno il bug quello lì Del caccio d'inizio Assurdo Di bala Ti svei pure di bala Non lo so eh Del Piero Passaggio filtrate per Fernando Torres Controlla la palla Ma troppo schifo Ma che vuoi? Fernando Torres Ma che cavolo di leggenda può essere uno che Fernando Torres Ma che Che ha fatto? Niente Che leggenda Che le mettono a fare ste leggende? Che le mettono a fare? Ragazzi scusate ma qua c'è proprio lo sfogo Oggi sta partita c'è lo sfogo Prima partita del canale sfogo assoluto Ce la facciamo E vai Ronaldo Ci ha provato Ronaldo Ma niente da fare E che sparlate qua Sparlate là Quest'altro non va avanti E dai Per favore Per favore Non mi fate incavolare Non mi fate incavolare amico Ma cosa Torres vuole veramente Messersi con Van Dijk Contro Van Dijk Piuttosto qua Sto Ronaldo qua Vedete ma Ma Cioè fa proprio schifo Se continua così Cosa vuoi fare? Le finte A me non me le fai le finte Opportunità di ripartire Eh dai Ma Una che riesce a beccarla Ronaldo No eh Puyol Puyol Ragazzi Devo dire che Pensavo meglio Forse un altro da cacciare Sì Mi sa un altro da cacciare 91 Quello che vuole Ma I numeri contano poco A quanto pare Passaggio sulla destra Allarga il gioco a destra Ottimo Vediamo di difenderla Vediamo di difenderla Bravo Bravo Ok Contro piede veloce Qua serve Vai bravo Ok Bravo Non male Mamma mia Qua Qua ho sbagliato io Ragazzi Qua ho sbagliato io Dovevo tirare molto prima Vai Ronni E dai Ronni E segna Ronaldo Dai Dai Speriamo Non recuperare Dai Speriamo di recuperare Dai Eccola qua La tecnica del bambino Meno male che c'è Beckham Questa ha rotto Le scatole Questa tecnica L'inerzia della gara È tutta al loro favore Scodella in avanti Ottima scelta di tempo Qua Sfuma L'azione Farsi Dai 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 di Bala Fasta la pureta È una corsa Perché E qua Qua Attenzione ragazzi Ci potrebbe essere L'altra svolta Un corso Torres L'odio a questo L'odio E finisce il primo tempo Vediamo cosa succede Il secondo ragazzi Secondo tempo Eccoci qua Dobbiamo recuperare Ancora un gol Per riuscire a tornare In parità Però Se facciamo questi passaggi La cavolo Dovesse regalarci altri due O tre colpi di scena Si riprende con il secondo tempo La conclusione Mamma mia No No Dai Dai Vedi Ma vedi Sti rimpalli Sti rimpalli Non Cioè Ma risolvete queste cose Cioè Un appello a tonali Questa Risolvete Sti rimpalli Perché Meglio Risistarlo Proprio Il gioco Adesso Poi vediamo E ora Ci sono due golli Di vivere Le squadre È fatto Ronaldo Ma porco Stifo Ronaldo Non te la fai ragazzi Non te la fai E qua Non si riesce a fare Una bellazione Sto Puyolo È un nano Un nano È più alto Del Piero Di Puyolo Guarda qua Pazzesco Puyolo È proprio Difensore Potremmo farlo Un po' meglio Tacco Di Pogba Facciamo anche Lo spettacolino Adesso Spettacolino Però Rischiamo ancora Con Puyol Grandissimo Puyol Sempre più Affine A questa squadra Puyol Ma Ce la facciamo Odee Tutti giù per terra Sì Ma Ronaldo Che fa Cioè Non ha E dai Ronaldo Lui che deve fare Miracolo Sta partita Proprio Mane Concentriamoci Per bene Come non detto Come non detto Vai vai Fammi la sciolata Vai 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 Fammi la sciolata Dietro Vai Ronaldo Mamma mia Ronaldo Ancora Non è riuscito A buttarla in rete Cioè Veramente Assurdo Cioè Ma Chi è quel portiere Vorrei capire adesso Vorrei capire Proprio Chi è quel portiere Dai 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 Ronaldo Ronaldo Dai Dai Ronaldo Dai Ronaldo Che quando vuoi Ci riesce a fare Un gol Dai Riuscita a buttarla Nell'angolino A sinistra E portiere Dai Ronaldo E adesso ovviamente Il distacco si riduce Ora devono rimanere concentrati Ora tocca a maneggero Troppo Mannaglia Mannaglia Qua Poteva andare diversamente Ragazzi Poteva andare diversamente Ancora Ronaldo Ronaldo E c'è il recupero Ragazzi 3 a 3 Siamo 3 a 3 Dai Dai Che possiamo far Farcela E per E play Non ci lo fa vedere Non c'è imposta Niente Non me lo recuperare Ragazzi Facciamo qualche cambio Non ci lascio a fare Adesso Ah no Sta tecnica De Mamma mia Ma quanto si Mamma mia Meno male che c'era Van Vick Che uno ogni tanto Si dimentica Che fa Sta tecnica Bambino Ah Si è svegliato Eh Van Vick Che fincavoli Adesso Ragazzo Eh Rosso qua Qua un rosso Ci vorrebbe Qua rosso diretto Fatto entrare Fabinho Ragazzi E anche Berkamp Vediamo Berkamp Riesce a fare Qualcosa Anche se L'ho usato Un po' Di oltre Ma Non è molto Buono Come giocatore Sinceramente Pallone Intercettato Tempestivamente L'azione Poteva diventare Davvero Pericolosa Si rimpalli Mamma mia Si rimpalli Devono risolvere L'hai però In testa Devono assolutamente Risolvere Stessa cosa Perché non si può Continuare così Passiamo Indietro Attenzione Occasione Ed è rete All'ottantanovesimo Ragazzi Ma ha dato pure Trofeo Riserva di russo Chi è Berkamp Proprio quello Dicevamo Che faceva schifo E riuscite a fare Qualcosa E non mi freghi più Ragazzo Con questo numero Non mi freghi più Adesso Non mi freghi Ora Facciamo passare Il tempo Qua La vittoria È sudata È stata sudata Questa vittoria Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Ce l'abbiamo fatta E rimonta Sembrava tutto Perduto Ma ce l'abbiamo Fatto Ragazzi La prima partita Sul canale Bene Ci vediamo Al prossimo video Ragazzi Mi raccomando Lasciate Un mi piace Iscrivetevi Al canale E condividete Soprattutto il video Con i vostri amici Ciao a tutti Soprattutto il video